vai, tieni destra 5 lunga lunga che diventa 6 apri, 70 tieni destra, attenzione attenzione sinistra 3 meno meno, per sfiora destra alla balla, 30 destra 4 più apri, 100 attenzione attenzione sinistra 2 piazza, 200 attenzione attenzione scicanna entra sinistra, sinistra 4 più per destra 4 lunga lunga segui muro che diventa 4 più, per sinistra 5 più, 20 sul ponte sinistra 3 più, 20 sinistra 4 più, per destra 5 due volte, per sinistra 6, 40 destra 4 meno meno che gira, attenzione attenzione scicanna stai a destra, 70 che sale, a cartello sinistra 6, per destra 5 meno, per sinistra 5 meno, 30 taglia poco destra 5, per sinistra veloce, 30 sinistra veloce, 20 sinistra veloce, pega destra, attenzione attenzione destra 2 gira, al muro sinistra 4 più, 30 taglia destra veloce, 50 sinistra veloce, 40 sconnesso, attenzione attenzione tornante sinistro, 150 sinistri, destra 4 più, 40 destra 4 meno gira che sale, dosso dritto, 40 che scende, taglia poco sinistra 5 meno, 30 taglia poco destra 5 più, per taglia poco sinistra 5 lunga, per destra 5, 20 segue ponte, destra 5 più che sale, 30 sinistra 6, 100 sinistri, al palo taglia poco destra 5 più, 40 sinistra 5 più, 40 attenzione attenzione al lampione, sfiora destra 2 che sale, 50 tieni destra, al palo sinistra 5 lunga lunga tieni, per sfiora destra 5 al muro casa, 30 che scende, al palo taglia destra 5 sporca, per sinistra veloce, sconnesso, 30 sconnessi, sinistra veloce, 40 sconnessi alla rete, sinistra 5, 100 che scende, sinistra 5 lunga lunga sporca, che diventa meno meno sconnesso, per attenzione attenzione, destra 3 gira sporca, alla fine diventa 2, 50 che sale, al lampione sinistra 4 meno, per taglia destra 5, 30 al muro, sinistra 4 meno meno che scende, per destra 4 meno meno, gira apri, 100 che scende, sinistra veloce, 50 destra 4 meno, per sinistra 5 lunga lunga, al palo che diventa 4 più, tieni sporca, 30 alla casa, destra 5 alla fine diventa 4, per sinistra 5, per imposta sinistra 4 meno tieni, 50 sinistri, alla ringhiera, destra 3 sporca, 100 che scende, agli ulivi, attenzione, sinistra 3 gira 2 tempi, 40 al palo, sfiora destra 4 meno, 50, sotto che scende, 30 attenzione, destra 4 2 tempi, che diventa 3 meno tieni, 200 sconnessi, tieni destra, alla fine sinistra 2 che scende, apri, sinistra veloce, 1... destra veloce, 1... destra veloce, qui c'è il tempo con l'avanti? si, pure il tempo di quello avanti, 2... Grazie a tutti.